Con un grandissimo applauso, signori e signori, un grande applauso per la donna Luisa Bia! La vita che non è, sembra la vita e invece tu, vieni tu alzati che ancora ci sei, guarda di venire, sono sempre qui, io sono il buono, sono il buono, sono il buono, se non c'è sangue, non c'è business, è più di paramo e anima. Luisa Bia! Grazie a tutti. Grazie a tutti. 35 anni, viene da Bergamo, combate per il team Madone. Quattro match, tre vinti, uno perso. All'angolo blu, signore e signori, facciamo un grandissimo applauso. A Mrs. Zonka Luizana. La sua avversaria, 27 anni, viene da Roma. Combatte per l'Oriama team, ha 57 match. 46 vittorie, di cui una per K.O. Tre match persi, sette pari. Signore e signori, all'angolo rosso, facciamo un grandissimo applauso a Mrs. Marika Killermoma Pagliari. Miss Pratina on stage per arbitrare. K1, 59 kg, 4 riprese da 3 minuti. Un titolo italiano femminile. Signore e signori, fatemi sentire! Prima ripresa! Marika Killermoma Pagliari. 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 non scendi con la gamba la manica finita ragazzi e trovate a a a a Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Vai a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.